In questo video mostriamo come importare una nuova di punti in Analyst Clicchiamo su Cloud Clicchiamo su Recap Clicchiamo su Nuovo Progetto Assegniamo il nome e il percorso di salvataggio al progetto Selezioniamo il file da importare E leggiamo l'acquisizione del file con Indicizza Alla fine avviamo il progetto per visualizzare la nuola digitale trasformata da Recap Salviamo e chiudiamo Torniamo in Analyst su Get Cloud Andiamo a selezionare la nuola appena creata da Recap Selezioniamo il file e clicchiamo su Apri Facciamo attenzione a non specificare i punti sullo schermo Perché vogliamo le coordinate assolute Invece dobbiamo impostare 0.01 nella scala Perché Recap lavora in millimetri Clicchiamo su OK E abbiamo importato la nuola in Analyst Invece dobbiamo impostare la nuola in Analyst Invece dobbiamo impostare la nuola in Analyst